E' una parola latina. Si, qui vediamo il foro di Giulio Cesare, uno dei fori imperiali. Allora passano loro e poi cresce in stanza. Giulio Cesare. E' un foro imperiale che fu costruito nel primo secolo a.C. Un foro imperiale costruito nel secolo I a.C. Queste rovine che vediamo qui sotto sono le rovine della Basilica Argentaria. Deci aici ruinele pe care le vedem sunt ruinele Basilica Argentaria. De lui Venus, facatoare de copii. Aici e Grecia. Dar e mai mult decat Grecia. Il silenzio vi prendiamo. Il silenzio a fine Nigo ispirazione. L'unmeni si iubinde. Il silenzio qui stiamo a granulare. Deci si troppo ne sei da quind corpo. Il silenzio è una piuta per scris. E' un potessi costruire. Il silenzio di suolo di Sini. Il silenzio è un poivre di Speria. Il caldo di Speria di Speria. Il caldo di Speria in li numeri. Il caldo di Speria. Il caldo di Speria in Gelio. Ecco? Sì, allora qui sotto dove è questa scintura, all'interno, abbiamo il famoso carcere. Il coroce di merva, queste saranzele care fac legatura intre le due parti, face sacrificii per animali, per per le persone che succede. Il coroce di meri, queste saranzele care fac legatura intre cele dupa parte, se faceau sacrificii de animali, per le sai che trei, per le rascot. In occasione dell'anno santo, in metto gli archi, possiamo vedere che ci sono delle semicolonne costruite con pietre di travertino, con un pelo giallo, chiamato velario, lo coprivano durante l'estate, quando ero piccato, e sotto lavoravano gli essenti, erano animati e si aspettavano si le diceva de asupra, si are in aerea plina, si le diceva un ascensor manual, pe base de scrimpere, asa cum este acum benissimo grazie 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 indignant grazie 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 ti piace il camion? l'argo 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 è un'attività la battaglia era contro Massenzio e il Vincitore è bellissimo ci sono dei rilievi delle scene di caccia delle scene di rilievi colonne in giallo antico colonne in galben antico e in cima abbiamo delle statue di soldati barbari e in cima abbiamo soldati di soldati barbari barbari catturati nel corpo umano catturati in formul roma domnilor e questa con barba di aici in dreapta è un dame questo è l'arco più bello che abbiamo in Roma come l'arco di triunfo di Paris questo è un arco di triunfo di Paris questo è il arco del triunfo di Roma è una struttura rotonda è una struttura rotonda è una struttura rotonda ci sono una struttura monumental una fortuna monumentale è un luogo mare dove i gladiatori dopo i spettacoli usavano ruine palatini Roma si sud Italia La Deastia si chiamata Regina Rechina di Arius in latino significa lava vulcanica in diverse forme di pietre 13 km della Deastia erano state costruite delle tombe di cipria 13 km care plecau de la Roma a fost costruite si morminte Dele tombe iar 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 iar